Chiara Nast in crisi Chiara Nast in crisi, l'influencer vuole lasciare l'isola Isola dei famosi, Chiara Nast è in crisi, l'influencer napoletana si dice pronta a lasciare la trasmissione. Per il gruppo dei Peor le cose all'isola dei famosi non si stanno mettendo benissimo al momento. Il cattivo tempo e la pioggia incessante sta duramente mettendo alla prova i naufraghi che, da diversi giorni ormai, non dormono più a causa delle pessime condizioni climatiche. Tra questi quella più provata è sicuramente Chiara Nast che, come mostrato nel daytime di oggi, sembra aver dato i primi segni di cedimento. L'influencer, infatti, stanca e nervosa ha avuto una crisi di pianto e si è detta pronta a lasciare il gioco anche subito. Sotto la pioggia e senza alcuna riparazione, infatti, lei e gli altri naufraghi del gruppo dei Peor hanno passato le notti al freddo, bagnate in mezzo al fango. Chiara Nast, ecco perché vuole lasciare l'isola. A far scoppiare in lacrime Chiara Nast sarebbero state proprio le condizioni in cui lei e il suo gruppo sono stati costretti a dormire in questi giorni. La napoletana esausta e fortemente provata ha addirittura dichiarato di stare pensando di abbandonare l'isola. A consolare Chiara, però, sono subito arrivati gli altri suoi compagni di sventura i quali, tra un abbraccio e l'altro, hanno convinto la ragazza a restare. La produzione, poi, considerate le condizioni climatiche avverse, ha anche fatto arrivare ai concorrenti un telo per ripararsi dalla pioggia. Isola dei famosi, naufraghi fortemente provati, prima di Chiara anche Francesca Cipriani si era sentita male. Chiara Nast non è stata l'unica a mostrare i primi segni di cedimento sull'isola. Prima di lei infatti, proprio ieri, Francesca Cipriani si è sentita male a causa di un calo di zuccheri. L'ex pupa bionda, infatti, è stata portata via da un medico che, solo dopo averla visitata, ha deciso di farla rientrare alla base.